Resa celebre a livello internazionale dalla sua interpretazione di Lucia nel film Promessi Sposi, del 1941 di Mario Camerini, è stata una delle dive più note del periodo del cinema dei telefoni bianchi. Ha recitato in circa 50 film diretta da registi come Luigi Comencini, Giuseppe Bertolucci, Giuliano Montaldo, Mario Mattoli, Alberto Lattuada, Camillo Mastrocinque, Alessandro Blasetti accanto ad attori come Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo, Vittorio De Sica, Aldo Fabrizi, Gino Cervi, Aroldo Thieri, Massimo Girotti, Eleonora Rossi Drago, Cesco Baseggio, Valentina Cortese, Clara Calamai, Amedeo Nazari, Ruggero Ruggeri, Antonio Centa, ha lavorato anche in teatro con grandi compagnie accanto ad attori del calibro di Vittorio Gasman, Anna Proclemer, Gino Cervi e Gabriele Lavia. In tv è da ricordare soprattutto per l'interpretazione nello sceneggiato televisivo del 1972, Sorelle Materassi con la reggia di Mario Ferrero. Famosa è stata la sua tormentata storia sentimentale con Massimo Serato che infine la lasciò per, Anna Magnani.